senti come canta adesso va adesso canta bene Ayé, Lindbergh, Spirit of St. Louis va 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 la fluttura c'era poco ah com'è andato di rotta verso Parigi bravo l'imber la droga la fatica ha fatto una pietra hai un cicchetto eh? guarda che belli i due scarichi chi è che fate? facendo un moscerino, questi moscerini di quest'anno sono tremendi è più bello ma che scarichi è proprio bello adesso lo ordiniamo a 4-5 ma tutto sta cosa costa il trattamento degli alberi che usi? ah per il contagiere allora è expert d sinistra a destra il cabre picchia cos'è che ha fatto? no questo qui è il contrario il canale 4 è il primo volo in assoluto? del motore si dell'aereo dell'aereo aveva già avuto con altri motori si ma questo che tanto vedete il cabre picchia il motore aspetta eh perfetto si chiude e gli alettoni? vai in giro a bere ubriacarti a mangiare non li sopporto più Walter si difenda come dice la signora Liliana guarda gli alettoni sinistra e destra è giusto? sinistra e destra visto così no si si no si no poi questo l'altro poi facciamo una prova in distanza si signore bello qualcuno che si fa ancora i modelli e guarda che carrello ragazzi a balestra d'alluminio digli basta perchè è già distante si vabbè cosa vuoi fare? dove vai? prova la distanza prova ragazzi non funziona non funziona non funziona ma rubi mai le palle più panica mica mica devo provare il modello non è una gita sola se le dobbiamo sopportare ho già al mattino alle 8 tutti i giorni non sappia sopportarla tutti i giorni e non mola e non mola le concentrano come il modello tu sei tranquillo un attimo mi stanno caricando di madonna tu sai tu devi venire da noi al mattino presto poi capisci non parlare male è abbastanza aperto lì il minimo guarda che c'è un bel ragnasco portafortuna 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 no dall'altra ma io non glielo faccio sempre al contrario perchè questo sai che può andare in tutti i sensi ah già è vero davanti indietro sopra quindi non c'è problema per attaccare la batteria si 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 glielo ho detto te la sai Giorgio glielo hai incontato questa madonna che ha risato io c'è qualcuno che ci guarda e ci crede perchè è partito a volte al contrario si non c'è non c'è non c'è quando lo senti suonare e non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è il contrario non c'è si figurati mi sembra un pochino magro ma è non c'è non c'è è è che ci ci ti 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 Scusa c'è una pista lungo cento metri, ma stai tranquillo Diofano, più una verga Diofano, dai una verga, porco cane. Alza un po' Ruggero, quasi a metà. a metà. Senti come canta, adesso canta bene. Aiee Lindbergh, spirito di St. Louis, rotta verso Parigi, bravo Lindbergh! Aiee Lindbergh, spirito di St. Louis. Bravo Corrado! Grazie! 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 Applausi! Grazie! 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 Grazie!